Sei una vera amica, lo sai? In questo momento straparli. In effetti sei la migliore amica che io abbia mai avuto. Allora mi dispiace per te. Perché? Oggi sarei anche potuta morire. Ecco perché non sopporto chi si droga per questo. E se fossi morta sarei stata ricordata come quella poco di buono che usciva con due medici. No, un medico e un veterinario. Derek O'Finn, Derek O'Finn. Io morirò come la donna che non seppe scegliere. È probabile, ma essendo morta perché farsene un problema, giusto? Allora, Grey, hai la febbre, i bianchi alti, l'addome a tavola, il che suggerisce... Appendicite! Appendicite! Oma, lei prepara la paziente per la sala, la opererai tu. Sul serio? Dovrò operarla io? Evidentemente devo essere l'unica a ricordarsi dell'ultima volta che George ha condotto un'appendicectomia. Ha quasi ucciso un paziente, scusa, George. Sì, forse non è il caso, potrei solo... Ecco, naturalmente, a meno che lei non insista. D'accordo, allora come non detto. A te sta bene, dottoressa Grey? Quanta carina. George, voglio un ghiacciolo!